Abbiamo, credo, lavorato in queste settimane, sette settimane di preparazione sufficientemente bene nel modo in cui andava fatto. Naturalmente è capitato a noi, è capitato ad altri, c'è stato da convivere con questa o quell'emergenza d'ordine fisico, frutto di fattori assolutamente casuali, insomma, traumi da contatto e non lesioni muscolari, però tutto questo credo ci abbia condizionato probabilmente in alcuni frangenti di test pre-season, non ci hanno affatto condizionato nel lavoro, quindi credo che siamo pronti nella medesima misura in cui lo eravamo lo scorso ottobre e naturalmente ciò che differisce in modo sostanziale è la qualità del campionato, credo di non scoprire l'acqua calda dicendo che la 2 è probabilmente un campionato più ricco di fascino, di equilibrio rispetto alla stessa 1, quindi sarà una stagione molto molto dura, molto importante farsi trovare da subito assolutamente pronti.